sentite il lavaio del mio cane è quello che avete visto poco fa che sta abbaiando appunto perché chiede di entrare la porta è aperta può entrare tranquillamente il problema però qual è che se io andassi lì ad agevolare il suo rientro in realtà è una manipolazione che sta facendo che lui sa benissimo di entrare di poter entrare solo con la mia presenza non è un reale aiuto fisico può entrare allora così io però creo il precedente di se non vieni qui io non entro in questo caso cosa faccio allora chiudo la porta e mando il messaggio al cane guarda che se abbai non entrerai io ti voglio qui con me però è giusto che tu mantenga un certo autocontrollo a questo punto sarò io che apro la porta e su invito come vedete è entrato su invito mio quindi su iniziativa mia pur aiutandolo e tenendo conto della sua età la mia leadership è salita